Come puoi vedere nel video, tutto ha inizio quando il piccolo protagonista decide di avvicinarsi al mare mentre si aggira nel porto di Valle Gran Rey, un comune situato sull'isola di La Gomera, in Spagna. Così, dopo essersi avvicinato all'acqua per dare da mangiare ai pesci, si accorge della presenza di una strana creatura dalle grandi dimensioni. Saranno necessari alcuni minuti per scoprire l'identità di questa inquietante creatura. Si tratta di una manta di dimensioni considerevoli. Sia il bambino che l'animale sembrano avere un legame unico che permette loro di giocare come se fosse un padrone e il suo animale domestico. È possibile osservare come il bambino, con grande fiducia, offra del cibo, un alimento che la gigantesca manta riceve senza problemi. Inoltre, il bambino ha il coraggio di accarezzare questa spaventosa creatura vivente, che sembra essere abituata ad essere coccolata. È importante aggiungere che quando questi tipi di animali si trovano di fronte a persone, difficilmente decidono di attaccarle. Ciò accade principalmente perché, nella maggior parte dei casi, la reazione aggressiva è provocata dall'imprudenza umana. Se ti è piaciuta questa storia, metti un mi piace al video e iscriviti al nostro canale. Ti lasciamo con altri due video che potrebbero piacerti. Se anche tu sei un appassionato di animali come noi, ti consigliamo di guardare gli altri video nel nostro canale e di condividere questo video con i tuoi amici. Scrivi anche nei commenti cosa pensi di questa storia. Grazie per aver dedicato il tuo tempo a guardare questo video.